Si avvicina l'arrivo del nuovo Vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca, nominato lo scorso settembre da Papa Francesco al posto di Riccardo Fontana. Il giorno dell'insediamento è fissato per domenica 27 novembre, prima domenica di avvento, un'intensa giornata nel corso della quale il nuovo Vescovo, partendo dalle periferie geografiche ed esistenziali, arriverà al centro della città di Arezzo e della Diocesi, sulla cima del Colle di San Donato, per la messa in cattedrale presieduta dall'arcivescovo metropolita di Firenza, il cardinale Giuseppe Betori. Sono contento che è arrivato un Vescovo così, mi sento molto rappresentato da un Vescovo che al suo primo saluto alla Diocesi ha detto prima di tutto la parola di Dio, poi la continuità con quello che è stato fatto finora, poi la preghiera e da ultimo l'applicazione del nostro sinodo. Quindi quelli che credevano che cambiasse le regole del gioco, il gioco è quello, è uno solo, peraltro il nostro sinodo è stato approvato dal Papa. La mattinata del 27 novembre per Monsignor Migliavacca inizierà con l'incontro con i giovani fedeli della Diocesi nella chiesa di Saione. Dopo il ritrovo ci sarà anche un pranzo al sacco per i ragazzi. Vicino ai giovani lo è, lo è stato sempre e ha fatto tante cose buone e belle in questo servizio alla generazione nuova.